buon di fioi buon di tose o buona sera fioi buona sera tose dipende da che ora guardare il video come nemo spero ben ciao a tutti io sono stene da treviso con furore e con bentornati su stene channel e benvenuti su stene live anche se è palesemente on demand allora prima di cominciare la trasmissione odierna scatta perché siete fantastici tutti i miei iscritti che hanno portato il canale ad avere quasi 8.500 seguaci quindi per me è una gioia incommensurabile mi ha fatto piacere che un mio amico giovanni pasqualini mi abbia scritto in questi giorni mi ha detto ci eravamo sentiti quest'estate che eri neanche a 3.000 adesso più di 8.000 cioè siete fantastici nel frattempo così altri 20 secondi da dedicare a tre amici allora un salutone a Marco Lorenzi che è rinchiuso in casa a Londra bravissimo Marco comunque che dà l'esempio dall'estero e un abbraccione a Marcello Dubla di Firenze che è un personaggio di altri tempi cioè spettacolare qualcosa di unico e all'amico Walter Pieri che addirittura mi scrive a mezzanotte per ringraziarmi che pubblico i video della Lucchese per cui grande forte abbraccio a tutti e tre io sono contento di darvi queste gioie ecco con i miei video a Marco Orda anzi la programmazione di Stene Channel in questi giorni sarà bella corposa perché purtroppo sono renegato in casa non posso lavorare allora che cosa faccio cerco di deliziare la mia platea con questi video un po così alla buona ma soprattutto con i video a Marco Orda per cui seguitemi condividete eccetera 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 detto questo argomento odierno Zach Valencia Atalanta in quarantena ma allora io mi domando mi domando era così necessario giocare a tutti i costi la cempio e per fortuna che l'hanno giocata a porte chiuse se no che cosa succedeva che poi Liverpool sinceramente con l'Atletico Madrid non ha giocato a porte chiuse quindi quindi adesso vi faccio scattare veramente il panico c'è qualcuno che mi esclude categoricamente che i giocatori dell'Atletico Madrid non si siano visti coi giocatori del Valencia e che non si siano palleggiati il coronavirus quindi hanno impestato Anfield se è così però l'importante che la UEFA facesse giocare la Champions ok l'importante a porte aperte perché poi gli inglesi sono splendidi a porte aperte perché loro hanno gli anticorpi con i controcazzi noi non prendiamo niente eccola qua Valencia ed Atalanta in quarantena adesso poi come al solito bisognerà controllare che i giocatori dell'Atalanta beh a parte che non penso che siano arrivati a casa a piedi per cui in qualche maniera non so via aereo via autobus via via telematica come cazzo sono arrivati a casa quindi comunque avranno mangiato avranno bevuto saranno andati a pisciare quindi cioè avranno avuti dei contatti con altre persone speriamo bene speriamo bene allora ripeto a livello sportivo io sono il primo a essere felice che l'Atalanta abbia abbia raggiunto i quarti di finale di Champions una cosa storica merita di giocarli per carità di Dio tutto quello che volete però adesso il problema è un altro cioè il problema è la salute mondiale globale qua si sta allargando tutto a macchia d'olio ci hanno voluto far credere che i professionisti erano immuni non so sulla base di quale principio loro sarebbero stati immuni che chiudendo le porte degli stadi sto virus diceva ah aspetta San Siro se saranno entro lo Juventus Stadium è chiuso non posso passare cioè ci sono gli Stuart che mi che mi sgamano all'entrata invece ecco l'esempio lampante di come siamo abituati a fare gli struzzi e al di fuori del calcio poi c'è gente che ancora continua a fare le scampagnate le biciclettate a correre lungo gli argini tutti sportivi adesso tutti amanti della natura quando si butta la spazzatura in mezzo alla strada dai dai però bisogna essere intransigenti di fronte a delle limitazioni che sono poi pro nostra salute che sono pro medico perché i medici stanno impazzendo gli ospedali stanno collassando e dopo ecco noi pensiamo a far giocare che è giusto giocare la Champions a porte chiuse che chissà che riprenda presto il campionato quando poi invece addirittura sento che vogliono strutturare delle navi da crociera come una sorta di ospedale mobile perché siamo a livello proprio di collasso totale sugli ospedali saranno rumors, non saranno rumors però ragazzi la situazione non è per nulla rosa cioè anche ieri vengo attaccato perché oh bravo hai fatto il video che hai bisogno di disinfettare le scarpe allora premesso che dovrebbe essere un'abitudine igienico-sanitaria quotidiana perché uno comunque va sui cessi pubblici cammina dove cacano i cani dove la gente snaricia comunque sono ambienti contaminati non solo da coronavirus anche da altre schifezze quindi secondo me è bene lasciare le scarpe fuori e visto il periodo mi è stato dato un suggerimento che ci potrebbe essere un rischio che il virus vive anche sotto le suole delle scarpe quindi è bene disinfettarle punto, non sono un medico, non sono un tutologo sono semplicemente un coglione di Treviso un italiano che si preoccupa un po' per tutti in primis per me, per mia moglie, per i miei cari ma mi preoccupo anche per voi perché potrei essere anch'io un potenziale un potenziale come si dice portatore sano che vado a impestare la gente se non mi metto la mascherina se non mi metto i guanti se non mi disinfetto ogni dieci minuti cioè è così c'è un po' di senso di responsabilità ci dovrebbe essere però dico come fa poi tra l'altro la gente ad essere responsabile nel momento in cui questi adesso faccio proprio resto nell'ambito calcistico gli intellettuali del calcio quelli che manovrano questa enorme macchina di soldi ma anche di divertimento di svago per noi sono i primi a fottersene perché comanda il dio denaro comandano i diritti televisivi ma che cazzo di discorso è e dopo a tutto questo cosa si aggiunge che stamattina apro la televisione e vedo le squadre stanno pensando a ritornare ad allenarsi allora vedi un elenco enorme Cagliari Sassuolo Lazio che si dovevano ritrovare il 21 il Bologna addirittura il 19 il Milan il 23 l'Atalanta il 24 però dopo asterisco ma visto quello che è successo gli allenamenti riprenderanno a data da destinarsi ma dai ragazzi il problema qua non è quando riprende il campionato è quando riprende la vita normale la vita quotidiana qua non è come ecco spengo la luce non mi vedete più tac è tornata la vita normale magari fosse così e il 3 di aprile è una data simbolica si andrà avanti ancora di più tanto che ripeto la gente non rispetta queste limitazioni e io da italiano mi vergogno che il governatore del Veneto Zaya dice qua la gente in Veneto non capisce un cazzo metto il coprifuoco bene allora altro che responsabilità scelleratezza collettiva e andare a pensare poi quando riprenderà il campionato come saranno distribuite le classifiche si farà l'europeo questi sono i problemi ma qua se va avanti così non facciamo l'europeo per dieci anni cazzo non riprendono i campionati sportivi per altre tanti fioi queste sono le considerazioni da fare no a porte chiuse il virus resta fuori ecco Valencia ed Atalanta in quarantena adesso speriamo speriamo che i giocatori del Valencia non sono venuti a contatto con quelli del atletico Madrid chissà per quale cazzo di motivo però potrebbe essere ok e idem dicasi l'Atalanta non abbia distribuito ovunque sto virus che veramente è qualcosa di allucinante bene dieci minuti anche oggi li ho fatti per cui mi fermo qui vi mando veramente un forte forte abbraccio vi ricordo l'hashtag meglio annoiato che intubato guardate se ne channel guardate che il cazzo che vuoi basta che stai a casa direi che è ora di congedarmi per cui mando un abbraccio veramente forte a tutti non so se l'ho detto prima lo ridico ancora per cui cosa dirvi che vi voglio ben steme ben e se vedremo al prossimo video o al prossimo live ciao a tutti ciao a tutti Grazie per la visione!